Purtroppo non vi è dubbio che l'essere umano sia, in generale, meno buono di quanto si immagini o voglia essere. Ognuno di noi porta con sé un'ombra, una regione oscura della personalità che è sconosciuta e che l'ego non vuole riconoscere. L'ombra è una parte viva della personalità e, pertanto, desidera vivere con noi in qualche modo. Non possiamo negarne l'esistenza, non possiamo usare la ragione per liberarcene. Più essa rimane estranea alla coscienza dell'individuo, più diventa oscura e densa, diventando un ostacolo inconscio che frustra le nostre buone intenzioni, fino a quando, prima o poi, si produce una rottura nel sistema psichico. Saremmo felici di leggere nei commenti il tuo pensiero su questo argomento e se ti è piaciuto iscriviti e lascia un like, in modo da non perderti tutti i contenuti di valore che stiamo preparando per te. Affrontare questa ombra è la prima prova di coraggio nel cammino interiore, una prova sufficiente a spaventare la maggior parte delle persone, perché l'incontro con noi stessi appartiene alle cose più sgradevoli. Ma se siamo capaci di vedere la nostra ombra e possiamo sopportare di conoscerla, allora una piccola parte del problema è già risolta. Almeno abbiamo portato alla luce l'inconscio personale. L'ombra è quella parte della personalità che rifiutiamo di riconoscere, perché contiene tutte le nostre qualità negative, tendenze distruttive e inclinazioni perverse. Aggressività, crudeltà, depravazione, atrocità, lussuria, avidità, brutalità. Tutte quelle qualità, capacità e tendenze che non si armonizzano con i valori collettivi, tutto ciò che fugge alla luce dell'opinione pubblica, si unisce per formare l'ombra. Quindi, l'ombra è un insieme di aspetti oscuri che ciascuno di noi, senza eccezione, porta dentro di sé, ma che sono socialmente inaccettabili, quindi li reprimiamo per evitare che si esprimano. Non vogliamo sapere che c'è una parte di noi in grado di commettere atti mostruosi e non vogliamo che gli altri lo sappiano. La spingiamo nei sotterranei dell'inconscio, dove rimane nascosta e ben camuffata, al punto da diventare sconosciuta e irriconoscibile persino per noi stessi. Tuttavia, i contenuti repressi non scompaiono, ma funzionano in modo autonomo. L'ombra continua a operare dall'inconscio, comportandosi come uno spirito che ha posseduto e che ha la propria volontà, esercitando un controllo sui nostri pensieri, emozioni e comportamenti, che tendono ad essere per lo più distruttivi e autodistruttivi. Questa sarebbe la ragione per cui è così difficile raddrizzare le nostre vite, anche se sappiamo bene cosa conviene, e siamo proposti di fare ciò che sappiamo che ci fa bene o smettere di fare ciò che sappiamo che fa male. La nostra ombra annulla questa parte cosciente e porta alla stessa inerzia distruttiva. Una e ancora. Come sottolinea Robert Louis Stevenson nel suo famoso libro Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, l'uomo non è uno, ma veramente due. Ha una personalità cosciente e un'ombra, ognuna delle quali lotta spesso per la supremazia nella sua mente. Per evitare di diventare vittima del possesso dell'ombra, dobbiamo diventare consapevoli di queste qualità oscure che sono sepolte nell'inconscio e integrarle nella nostra personalità. Per fare progressi o crescere, è necessario che l'ombra sia integrata correttamente. Quando non siamo consapevoli della nostra ombra, neghiamo l'esistenza di una parte della nostra personalità, e quella parte diventa parte del regno dell'inesistente, dove si ingigantisce e assume proporzioni enormi. Se ti sbarazzi delle qualità che non ti piacciono, negandole, diventi sempre più inconsapevole di ciò che sei, dichiarando sempre più la tua inesistenza, e i tuoi demoni diventano sempre più potenti. Invece di etichettare quegli aspetti di noi stessi come abominevoli, l'integrazione dell'ombra richiede che cominciamo a vederli come parti necessarie e vitali del nostro essere. Tuttavia, Jung afferma che questa integrazione è estremamente difficile, poiché la maggior parte delle persone non ammetterà che, nel profondo, non sono esseri umani completamente virtuosi, altruisti e buoni, e che invece contengono impulsi e capacità egoistiche, distruttive e immorali. La maggior parte si illude, ponendosi su un piedistallo di falsa bontà, e così rimangono individui frammentati e incompleti, che proiettano sugli altri la propria oscurità. L'incontro con se stessi è innanzitutto l'incontro con la propria ombra. L'ombra è un passaggio stretto, una porta angusta il cui dolore è insormontabile per chiunque scenda nelle sue profondità, ma dobbiamo imparare a conoscerci per sapere chi siamo. Il potenziale per commettere atti più orribili è presente in ogni essere umano, il che naturalmente ti include anche te. Le peggiori barbarie commesse da altri individui lungo la storia sono atrocità che anche tu potresti commettere. La parte più spreggevole della condizione umana vive anche in te, e reprimere tutto questo alimenta solo il mostro che alla fine prende possesso del tuo inconscio e rovina la tua vita. Quando cerchi disperatamente di essere buono, meraviglioso e perfetto, l'ombra sviluppa ancora di più una volontà definita di essere oscura, malvagia e distruttiva. La gente non può vedere questo, si sforza sempre di essere meravigliosa, e poi scopre che accadono cose terribili e distruttive che non riesce a comprendere, e nega che tali fatti abbiano qualcosa a che fare con loro stessi, o se lo ammettono, li considerano afflizioni naturali, o cercano di minimizzarli e spostare la responsabilità altrove. Cosa succede quando smetti di reprimere il peggio di te e lo integri armoniosamente nella tua struttura psichica? Il meglio di te inizia a emergere, perché l'ombra non contiene solo aspetti distruttivi della personalità, ma anche potenti capacità creative che abbiamo represso crescendo. L'ombra mostra una serie di buone qualità come istinti normali, reazioni appropriate, intuizioni realistiche, impulsi creativi, ecc. Molti tratti e impulsi che abbiamo represso hanno seppellito anche i nostri talenti e le nostre abilità innate. Pertanto, quando l'ombra si integra, raggiungiamo ciò che chiamo individuazione. Secondo Jung, l'individuazione significa diventare un individuo, intendendo l'individualità come la nostra peculiarità più interna, ultima e incomparabile. Perciò, l'individuazione potrebbe essere tradotta come diventare se stessi o autorealizzazione. Come integriamo la nostra ombra? Jung afferma che non esiste una tecnica universalmente efficace per assimilare l'ombra. È più simile alla diplomazia o all'arte di governare ed è sempre una questione individuale. Prima di tutto, dobbiamo accettare e prendere sul serio l'esistenza dell'ombra. In secondo luogo, dobbiamo diventare consapevoli delle sue qualità e intenzioni attraverso l'attenzione attenta ai nostri stati d'animo, alle fantasie e agli impulsi. In terzo luogo, è inevitabile un lungo processo di negoziazione. Se l'ombra è la porta d'ingresso al nostro essere, dobbiamo avere il coraggio di discendere nelle sue profondità infernali e affrontare tutti gli aspetti oscuri di noi stessi. Nei miti, l'eroe è colui che sconfigge il drago, non colui che viene da esso divorato. Inoltre, non è un eroe colui che non ha mai incontrato il drago o colui che, se lo ha incontrato, dichiara poi di non aver visto nulla. Allo stesso modo, solo chi si avventura a combattere il drago senza essere sconfitto da esso conquista il tesoro. Solo lui ha il diritto genuino di fidarsi di se stesso perché ha affrontato il terreno oscuro di se stesso e quindi si è guadagnato. Questa esperienza dona una certa fede e fiducia nella capacità del sé di sostenerci, poiché tutto ciò che minacciava dall'interno lo ha assimilato. Ha acquisito il diritto di credere di poter sconfiggere tutte le minacce future con gli stessi mezzi. Ha raggiunto una certezza interiore che lo rende capace di fidarsi di se stesso. Grazie per aver raggiunto la fine. Spero che questo video sia stato utile e ti abbia fatto riflettere. Iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perdere contenuti di valore. A presto e al prossimo video!